Cosa è questa battaglia di cui parli? Io sono Dracchio. Piacere di conoscerti. Alexios, parlami della battaglia. La battaglia delle cento mani attira guerrieri da ogni angolo del mondo greco per combattere e vincere un ricco premio. Ma è una competizione letale, di quelle dove sopravvive solo il vincitore. Mi guadagno da vivere uccidendo. Per me sarà ordinaria amministrazione. Vero. Hai un non so che di divino. Mi aspetto che le generazioni future cantino canzoni in mio onore. Se ti unirai alla battaglia potrai dimostrare il tuo coraggio contro i migliori. E visto che la competizione è finanziata dalle persone più potenti e influenti del mondo greco, il premio è sempre ricco. Se parli delle persone che penso, mi piacerebbe incontrarle e scambiarci qualche parola. Esatto. Sono il tipo di persone di cui non parlerei mai, apertamente. Sai, mi ricordi qualcuno che ho già incontrato. Un altro feroce guerriero. Forse era tuo parente? Intendi, Deimos. Allora questa battaglia è finanziata dalla setta. Naturalmente non posso rivelarlo. Non ho un contendente qualsiasi. Ma vinci la battaglia delle cento mani e ti dirò tutto quello che so. Voglio partecipare. Sapevo che l'avresti fatto. L'unica regola è che ogni contendente deve allenarsi con un rivale e ognuno dei due deve garantire per l'altro. E tu potresti consigliarmi un degno compagno d'allenamento? Ma certo, certo. Uno dei favoriti di questa edizione sta cercando qualcuno con cui allenarsi. Rossane. Si allena a Idra, l'isola appena a nord di qui. Com'è iniziata la tradizione della battaglia di Milo? L'ho avviata io grazie al supporto finanziario delle persone potenti di cui ti parlavo. La metafora è che ogni contendente combatte contro un centimano. La creatura con cinquanta teste e cento mani. Esatto. Sconfiggendo tutti gli avversari è come se il campione avesse ucciso la creatura stessa. Un bel risultato. Non è un'impresa destinata ai deboli. Esatto. Cosa sai di Rossane? Discende da una lunga stirpe di aspiranti campioni. La sua intera famiglia ha cercato di vincere la battaglia delle cento mani. Aspiranti campioni. Devo dire però che nessuno di loro era abile come Rossane. Come sei diventato l'organizzatore della battaglia? Ero un mercante emergente da queste parti. Un po' a corto di fortuna. Dovevo qualche favore. Finché alcune persone potenti non hanno preteso che li ricambiassi. Mi è andata bene. Gli sport sanguinari vanno alla grande su Milo. Queste persone potenti che hai menzionato fanno parte della setta di Cosmos, vero? I misteriosi. Ti piacerebbe conoscerli? Sì, lo so. Ma dovrai aspettare. Quanto? Resto legato a ogni mio campione. Se vincerai la battaglia, potremo discuterne sorseggiando il vino della vittoria. Pronto a combattere! Non hai ancora completato l'allenamento. Mi sembri abbastanza abile. Se mi darai una borsa bella piena di drachme, potrei soprassedere sull'allenamento. Completo l'allenamento e turno. Vuoi arricchirti? Sarai il prossimo campione? Tu, Mistius! Mi sembri piuttosto forte. Ti scattarono solo. Mi tengo. Mi tengo. Si? Mi sembri criare! Chi porno o! Pronti a fare vena? È bello riaverti con noi, comandante. Velocità di sparovamento! C'è una bella! Grazie a tutti. 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 Torso.